Libri per una corretta alimentazione in arrivo nelle menze della scuola dell'infanzia e della scuola primaria a Cavriglia, processo alle verdure e mi piace bio, sono curati in sinergia tra l'amministrazione comunale, la commissione mensa e il gestore del servizio. I testi appunto saranno distribuiti all'interno dei plessi. Libri in tavola si tratta di un'iniziativa di educazione alimentare che nasce in collaborazione con CAMST, ma in particolare in sinergia con la commissione mensa che vedrà gli iscritti al nostro servizio di riflessione scolastica trovare sui tavoli della propria mensa a scuola delle piccole pubblicazioni. Piccole pubblicazioni che confermano l'impegno dell'amministrazione comunale per rendere il momento della mensa come un momento sempre più importante dal punto di vista educativo e della socializzazione. Si tratta di due piccole pubblicazioni che attenzionano sull'importanza dei prodotti bio che caratterizzano buona parte del nostro menu scolastico e sull'importanza dei cibi più adatti per una sana e corretta alimentazione. Le scuole coinvolte sono la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, tutti i plessi della scuola dell'infanzia e tutti i plessi della scuola primaria.